Ehi, bentornati su Breaking Italy, come state? Non iniziate a sentire lo spirito natalizio? Io sì, perché puntuali come la grandina d'estate e il corriere mentre si indoccia, arrivano le polemiche sull'Unione Europea che vuole rubarci il Natale. E così ogni anno, è incredibile. Nulla ovviamente supererà mai Giorgia Meloni che mette in marrone il presepe, era il 2015, ma io non dimentico e continuerò a ricordarvelo di anno in anno, ma insomma, anche a sto giro evidentemente abbiamo la nostra polemica a scema in merito, presa in carico dalla stampa di destra e poi diffusa da tutti i giornali italiani per arrivare fino all'estero. Bello. Allora, cosa è successo? Recentemente è stato condiviso internamente ai funzionari della Commissione Europea un particolare documento che fa parte del più ampio programma europeo Union of Equality, Unione dell'Uguaglianza, voluto dalla Commissaria dell'Unione Europea per l'Uguaglianza Elena Dalli, con l'obiettivo di dare delle linee guida per rendere il linguaggio dell'istituzione più inclusivo. Che è abbastanza normale. Una cosa è quando parli a casa tua o in piazzetta e usi un linguaggio lessicale, una cosa è quando sei un'istituzione politica che fa riferimento a centinaia di milioni di persone e allora, comprensibilmente, ne usi un altro. Il comunicato, che ve lo preannuncio, è stato ritirato dopo le polemiche, una cosa penosa, aveva infatti il fine di informare i funzionari all'interno dell'Unione di alcune formulazioni che, al fine di essere più inclusivi possibile, sarebbero da preferire rispetto ad altre. Lo ripeto ancora, si tratta di una comunicazione interna destinata ai soli lavoratori all'interno delle istituzioni e, leggendo l'intero documento, è chiaro che queste formulazioni servivano per, ad esempio, quando si parla con il pubblico, nelle conferenze, ai seminari, quando si scrive un opuscolo, i social media, cose di questo tipo. E questo emerge dal fatto che spesso si fa riferimento all'uso di foto di repertorio, in cui è meglio essere più inclusivi e mostrare non solo mani bianche, per fare un esempio riportato nel testo, o più semplicemente a situazioni in cui è necessario fare degli esempi. Era, insomma, un vademecum di comunicazione, non delle leggi vincolanti sul parlato, sulle quali, tra l'altro, l'Europa non avrebbe voce in capito. Quindi, fatta questa premessa, cosa c'era in questo documento? Allora, il punto è questo. Il file in questione, che non era destinato al pubblico ed è finito nelle mani della stampa, il giornale, mi sembra di capire, è stato il primo a farne menzione in Italia, è stato un attimo difficile da reperire stamattina, ma noi ci siamo riusciti e l'abbiamo letto integralmente, evitando di inseguire i pezzi d'opinione che già da ieri sera ne parlavano senza averlo visto. Perché era davvero palese questa cosa. Il file sostanzialmente contiene 32 pagine che, dopo una breve introduzione, si dividono per argomenti, e quelli toccati sono tanti. Eh no, il Natale non è tra quelli, anche se poi la questione è scoppiata per l'ennesimo attacco al Natale dell'Europa. Si va da questioni di genere, alla comunità LGBT, ai background etnico-raziali, alle disabilità e alle persone anziane, sino alle diverse culture, religioni e stili di vita. Ed è proprio su questo capitolo che è scoppiato tutto. Tenetelo a mente perché ci arriviamo tra poco. Per ognuno di questi ambiti, quindi, genere, background, culturale, eccetera, ci sono degli esempi specifici, che è comune in questi casi, mettono in parallelo casi da evitare con altri corrispondenti virtuosi. Ad esempio, bisognerebbe evitare, si legge, le parole che indicano un genere intrinseco. Quindi, al dire il fuoco è la più grande invenzione dell'uomo, sarebbe preferibile dire la più grande invenzione dell'umanità. Sto volando sul fatto che il fuoco non è un'invenzione, ma è una scoperta. E quindi, solo questo singolo errore fa dell'Unione Europea un'istituzione da abolire completamente. Non c'è dubbio. Un altro esempio è il consiglio sull'evitare di usare aggettivi, come transgender e gay, come sostantivi. Dicendo, ad esempio, una persona transgender, oppure una persona lesbica, al posto di un transgender, oppure una lesbica, che suonano un po' offensivi. Oppure ancora, il fatto che dire persona affetta da disabilità sia meglio di persona disabile, e ancora meglio di un disabile. Insomma, modi sostanzialmente moderni di approcciarsi a questioni di inclusività, che è peraltro ormai lo standard internazionale in moltissimi ambienti accademici, istituzionali, professionali, e l'Italia ad essere molto indietro su sta cosa. Ma è normale. Benissimo! Ora, cosa è successo? Tra questi esempi, nella sezione Cultura e Stili di Vita e Credo, viene anche citato sto benedetto Natale, dicendo che sarebbe sbagliato dare per scontato il fatto che, nella comunicazione istituzionale, chiunque all'ascolto sia cristiano e cattolico. Ma sia importante tenere conto delle differenze anche in questo senso. Secondo il documento, sarebbe quindi sbagliato parlare delle festività natalizie come universali, dato che non solo alcuni il Natale non lo festeggiano proprio, ma anche all'interno delle comunità cristiane ci potrebbe essere una diversa calendarizzazione, come nel caso del Natale Ortodosso, che si festeggia infatti il 7 gennaio. A questo proposito, quindi, le linee guida invitano a preferire la terminologia più generale di festività. Quindi, quando von der Leyen apre di fronte la videocamera con la sua mascherina blu, non dirà buon Natale, lasciando fuori metà della popolazione, che dirà boh vabbè, ma dirà buone festività e dentro c'è tutto. Il Natale, chi festeggia l'equinozio, quello che deve far pesare a tutti il suo essere ateo, il cristiano ortodosso, l'ebreo, eccetera. Peraltro, sempre nello stesso esempio, eh, lo stesso esempio, è anche spiegato che se proprio si vuole dire Natale, lo si può fare, magari includendo anche festività che cadono nello stesso periodo, come Hanukkah. C'è scritto, eh? C'è scritto. Si può dire, lo puoi fare, c'è scritto. Altro aspetto che ha generato la discordia. In riferimento agli eventuali esempi citati prima, il comunicato esorta a non usare solo nomi che appartengono a una determinata religione, come nel caso di Maria, noi lo facciamo spesso ad esempio la Signora Maria, perché ovviamente parliamo ad altri italiani, ma a introdurre nomi che provengono da più contesti culturali possibili, come ad esempio anche il nome da Donna Malica, esterno alla cultura tipicamente cristiana. E insomma, tra questo e il Natale che non si può più festeggiare, signora mia, è scoppiato il finimondo. A reagire all'articolo del giornale sono stati gli esponenti dei partiti più conservatori, a partire da Salvini, che tra le altre cose ha parlato del divieto di dire la parola Natale e di chiamarsi Maria, cioè inventandosi una cosa proprio di sana pianta, vietato chiamarsi Maria, facendo peraltro riferimento alla famiglia di Maria e Giuseppe, ma alla famiglia tradizionale. A seguirlo a ruota Giorgia Meloni, poi il principe ereditiero di Forza Italia Tagliani, sino all'interrogazione mossa in merito proprio da Forza Italia. E la denuncia è sempre la stessa, è sempre quella, cioè quella che l'Unione Europea vorrebbe in qualche modo rinnegare una parte fondamentale della cultura su cui è basata, addirittura vietando di parlare di quella stessa cultura, così da ritirare in ballo sempre la questione della censura. Una cosa, peraltro, meravigliosa, ma allo stesso tempo triste, è che la polemica ha fisiologicamente avuto una vita breve, dato che, se è da ieri che i giornali italiani se ne sono interessati particolarmente, già stamattina la commissaria Elena Dalli ne ha annunciato il ritiro, motivandolo in quanto il documento non sarebbe maturo e non raggiungerebbe gli standard qualitativi della Commissione Europea, che è sembrato più un modo per mettere a tacere queste polemiche, tanto più che, di nuovo, era una circolare interna, non una legge, non aveva alcun valore se non organizzativo. Ma va bene. La notizia è ovviamente stata accolta con grande entusiasmo da tutta una fetta della classe politica italiana, che si è rallegrata di quella che è stata percepita come una propria vittoria contro il politicamente corretto. Ora, veramente, guardate. Questo è proprio il simbolo di come i cittadini vengono trattati da scemi, e io, personalmente, mi vergogno del fatto che ieri, accendendo la TV, ho scoperto con orrore che il TG4, uno dei telegiornali di Mediaset, aveva dedicato un lunghissimo servizio a questa cosa e lo stesso ha fatto poi in serata il telegiornale di Mentana, con lui stesso, che ha concluso con una speranza, cioè che la direttiva fosse ritirata e ci mancherebbe, non si potesse parlare di Natale, ha detto. Sto volando su un foto che, boh, a me sembra palese. Veramente non capisco il perché dedicaria tutto questo spazio a sta roba. L'Unione Europea non solo non ha mai detto che non si possa parlare di Natale, ma non ha il potere di impedirlo, non è nei suoi poteri, non si capisce nemmeno perché dovrebbe farlo, neanche fosse Piazza Tiananmen e fossimo in Cina. La sola idea di essere un giornalista di Mediaset e dover andare in TV a dire una scemenza come l'Europa che vuole impedirci di festeggiare la festa più sentita di tutte, mi farebbe venire voglia di sotterrarmi. Non so, sinceramente, come mi riprenderei dopo aver affermato una cosa del genere di fronte a milioni di telespettatori. Guardate, qui la smetto, ma è una vecchia storia che facciamo emergere da sempre qui su Breaking Italy. È proprio fondativa del progetto. Il senso critico. A meno che non siate dei pazzi, quindi convinti che l'Unione Europea sia un covo segreto di rettiliani con chissà quali mile, la cosa più normale da fare quando arriva il politico di turno a cianciare sul Natale negato e chiedersi, ma l'Unione Europea che interesse avrebbe a impedirci come cittadini di dire Buon Natale o di fare il presepe o qualsiasi altra tradizione e rito che compiamo ogni anno? Come se poi l'Europa non fosse gente come noi, per la maggior parte proveniente da contesti simili al nostro, e che sarà, come lo sono io e tantissimi altri, affezionata all'idea del Natale. O sono alieni scesi dalle stelle. E lo dico da arte, eh? A me il Natale piace come tradizione, è bello, mi piace addobbare l'albero. Cioè, seriamente. Perché mai l'Unione Europea, peraltro guidata da partiti di centro-destra, dovrebbe impedire una cosa del genere? Ve lo dico io. Non ne ha mai avuto l'intenzione. Non è nei suoi poteri e nel documento, che vi lascio in descrizione, è veramente palese. Semplicemente, di nuovo, quando si parla a tanta gente si cerca di includere le più persone possibili. Qual era l'obiettivo? Ma va bene così. Va bene, anzi, per fortuna. Battaglia vinta, grande risultato. Per fortuna se ne sono accorti. Altrimenti, immaginatevo, eh? Non se ne fossero accorti. A questo punto, a un mese dalla celebrazione, non potremmo né dire Natale, né festeggiare il Natale. Pericolo scampato. Bene, passiamo dal proteggere il Natale, le vere radici cristiane, alla difesa di altri valori in giro per il mondo. Ad esempio, quelli della celebrazione dell'Impero Britannico. Anche quello è importante. Questa, ad esempio, è Barbados, uno stato insulare che si trova nelle piccole antille e che da oggi è diventata, a tutti gli effetti, la repubblica più giovane del mondo. Come mai? Allora, cerchiamo di dare al volo una panoramica della configurazione politica di Barbados rispetto alla corona britannica, perché, vi assicuro, non è così immediato come sembra. Allora, nel 1966, l'isola caraibica aveva guadagnato l'indipendenza dalla corona inglese, ma da quel momento in poi, sino ad ora, per quanto indipendente, aveva fatto parte del cosiddetto Reame del Commonwealth, che è una sorta di sfera di influenza stretta, come un anello attorno al Regno Unito che lega alla corona britannica ben 15 stati. Quindi, Reame del Commonwealth, anello piccolo. Attorno al Reame del Commonwealth c'è un anello più grande, cioè il Commonwealth delle Nazioni, che raduna invece 54 stati. E ora, seguitemi, è complicatissimo. Se i territori d'oltremare britannici, di cui faceva peraltro parte Barbados, prima del 66, o anche Gibilterra in questo momento, si configurano come territori britannici a tutti gli effetti, sono territorio britannico, mentre i 54 paesi dentro il Commonwealth delle Nazioni, quindi anello grande, sono completamente indipendenti, fanno semplicemente parte di un'organizzazione intergovernativa. Allora, i 15 stati, che invece si trovano nel Reame del Commonwealth, quindi anello piccolo, si trovano in una sorta di limbo politico tra i due, perché, pur essendo indipendenti, il loro capo di stato è ancora la corona britannica, Elisabetta II. E in questa lista troviamo nomi meno conosciuti, come Tuvalu, che si trova qui, ma anche altri nomi ben più noti, come il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, che infatti non hanno un vero e proprio presidente, sono in questo limbo qui e fanno capo alla corona. Ok, più semplicemente di così non potevo spiegarla, ma la novità è che l'isola di Barbados è passata da questo status di limbo alla completa e svincolata indipendenza, dopo che, già l'anno scorso, aveva annunciato di volersi smarcare completamente dalla corona inglese, diventando così, a tutti gli effetti, una repubblica, e di volerlo fare proprio in corrispondenza del 56esimo anniversario dalla dichiarazione di indipendenza. Cioè, oggi. Durante la cerimonia è stata ufficialmente ammainata la bandiera che rappresenta il trono britannico ed è stata eletta come prima presidente Sandra Mason, che aveva già precedentemente servito come governatrice generale. Cioè, la figura che, nei territori del reame del Commonwealth, funge appunto dal rappresentante della regina. In questo caso, la regina Elisabetta, che in una dichiarazione sportiva, ha augurato alla nuova repubblica felicità e prosperità. Mentre il principe Carlo, che era addirittura presente in carne e ossa alla cerimonia, ha riconosciuto formalmente la storia coloniale e schiavista dell'Inghilterra nei territori dei Caraibi in un bel discorso in cui definisce questa cosa come una macchia permanente nella storia. E, occhio che non è una cosa banale da dire per una figura come lui. Mi ne va dato credito. Peraltro, sapete che altre figure famose c'erano alla cerimonia? C'era Rihanna, che, indovinate un po', è originaria proprio di Barbados e che, durante la cerimonia, per qualche ragione, è stata eletta eroe nazionale dello Stato. E siccome non c'è il limite alla magia, durante la cerimonia la prima ministra, Mia Motley, le ha augurato, citando una sua famosa canzone, di continuare a brillare come un diamante. Shine bright like a diamond. Al che l'intera isola è sprofondata nel cringe e la ragione per cui ne parliamo, non per celebrare un momento comunque importante della storia umana e una nazione che si autodetermina, ma perché l'intera isola non esiste più da ieri, è sprofondata nella vergogna. Riposa in pace, Barbados. Mi dispiace. Cambiamo continente, invece, e parliamo un attimo del Botswana, che si trova qui, ma stavolta non ne parliamo per la variante Omicron. Infatti, cosa è successo in Botswana? È successo che la Corte d'Appello dello Stato ha confermato una precedente decisione del 2019 che aveva determinato come incostituzionale la criminalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso e si è dovuta pronunciare perché il governo del Botswana, che evidentemente non è dello stesso avviso, si era appellato contro un precedente pronunciamento, di fatto evidenziando come sia ancora presente nel paese uno stigma così grande su questi temi dal permettere che gli individui vengano perseguiti per il proprio orientamento sessuale. Questo elemento è quindi considerato da alcuni come un passo avanti nell'intera area per quanto concerne i diritti. Passo avanti, peraltro, operato non dalla politica, ma come succede spesso e succede in tutto il mondo, dalla magistratura. Teniamo infatti presente che il problema qui non è solo del Botswana. In tutto il continente africano, infatti, i diritti delle coppie LGBT sono decisamente meno tutelati rispetto all'Occidente e in alcuni casi è letteralmente un eufemismo perché i rapporti fisici tra persone che non siano eterosessuali sono talvolta puniti con pene di morte ed è il caso ad esempio della Somalia, della Mauritania, nazioni peraltro poverissime anche per gli standard dell'Africa o anche del Sudan, questo perlomeno sino all'anno scorso quando la pena di morte è stata effettivamente dimossa. Pur, d'altra parte mantenendo illegali i rapporti omosessuali, però vabbè, un passettino per volta. Ieri comunque la Corte d'Appello in Botswana ha confermato la decisione con l'unanimità dei giudici che hanno determinato come la situazione precedente fosse una chiara violazione dei diritti della comunità LGBT alla dignità, alla libertà e banalmente alla privacy perché teoricamente a nessuno dovrebbe essere concesso il diritto di sapere con chi vai a letto. Anche se poi sappiamo che è più complicato di così, la strada a fare è molto lunga e banalmente anche in un paese come il nostro lontano anni luce da luoghi in cui puoi essere condannato a morte per una cosa del genere o condannato a morte e basta l'orientamento sessuale e gli affari privati possono essere usati contro litte pubblicamente. Di quello però parliamo nel terzo blocco. Per ora infatti restiamo in tema. Cile che si trova qui e che ha approvato la settimana scorsa uno dei passaggi di una legge che permetterebbe il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dico permetterebbe perché all'iter manca ancora un passaggio chiave al Senato ma se ne parla da giorni perché parrebbe che ci siano i numeri affinché la legge passi senza troppi problemi. La cosa è particolarmente importante per il Cile perché di solito si tende a considerarlo come uno stato fortemente conservatore ma negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda i temi sociali ha mostrato anche dei balsi progressisti come abbiamo appunto visto in questo caso. Fate conto infatti che le unioni civili erano legali già dal 2015 mentre in Italia dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito la legge Cilinà quindi quella delle unioni civili è arrivata nel 2016 un anno dopo nel caso in cui qualcuno pensasse noi fossimo messi meglio. No. Il Cile è più avanti. In ultimo diamo un aggiornamento su un caso di cui si è parlato molto lo scorso settembre e che aveva generato un sacco di polemiche per i motivi sbagliati. E sto parlando di lui Luca Morisi vi ricordate? Certo che vi ricordate ma facciamo finta che non sappiate chi sia ok? Luca Morisi era il pluricelebrato social media manager delle pagine social della Lega e di quelle personali di Salvini di cui era anche stretto collaboratore e dico pluricelebrato perché pare si debba a lui la strategia di comunicazione che ha reso tanto celebre il politico cioè quella che veniva chiamata informalmente la bestia e che ha caratterizzato la Lega in questi ultimi anni permettendo di guadagnare molti consensi tramite la retorica spesso ossessiva del nemico da inseguire. Per dire se volete una ragione per serbare rancore verso l'individuo in questione sappiate che dovrebbe essere lui ad aver coronato il termine capitano in riferimento a Salvini forse una delle cose più orrende che hanno caratterizzato le politiche della Lega negli ultimi anni anche più dei decreti sicurezza e dei morti in mare bambini morti in mare gravità qui Salvini capitano gravità qui insomma al di là dei giudizi morali e di merito potremmo dire che il suo lavoro pubblicitario comunicativo Morisi sapeva farlo questo settembre però Morisi stesso si era dimesso e proprio per il suo successo la cosa era arrivata un po' inaspettata non fosse stato che le motivazioni del gesto erano diventate chiare pochi giorni dopo quando la procura di Verona aveva dichiarato fosse indagato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ora cos'era successo a quanto pare due giovani ragazzi romeni erano stati fermati dai carabinieri per un controllo e trovati in possesso di una fiola di GHB una sostanza stupefacente che i due avrebbero detto di aver ricevuto da Morisi con il quale è emerso avessero passato del tempo nella sua abitazione abitazione perquisita in cui sarebbero stati trovati anche due grammi di cocaina benone quindi la domanda è la polemica era stata quindi per la droga? ni nel senso la lega un pugno duro contro le sostanze la retorica di Salvini contro i drogati quindi un po' di ipocrisia era stato facile evidenziarla ma insieme a quello c'erano state le allusioni su quali fossero i rapporti tra Morisi e i ragazzi e quindi va da sé sull'orientamento sessuale di Morisi che quindi in un certo senso è stato nuovamente messo in relazione con le posizioni della lega in merito ai temi LGBT che conoscete meglio di me non dobbiamo stare qui a dire sempre le stesse cose arriviamo quindi a oggi perché la notizia è che la procura di Verona ha annunciato come peraltro è stato ampiamente previsto dagli esperti che chiederà l'archiviazione dell'inchiesta citando la particolare tenuità del fatto accertando cioè che sì Morisi era in possesso di quantitativi piccolissimi di cocaina mentre gli HB l'avevano portati i ragazzi e questi due elementi derubricano il fatto a un illecito amministrativo quindi ben lontano dal traffico di stupefacenti di cui si era parlato inizialmente sui giornali ora due parole su questo davvero perché è facile dire che Morisi stia in qualche modo scontando una pena che la famosa bestia ha inflitto ad altri cioè quello dell'angogna pubblica del sospetto del giudizio spietato ed è così è vero ma questo non toglie quanto ingiusto sia stato anche per lui come per tutti l'intero processo che ha peraltro coinvolto anche i due ragazzi rumeni che sono stati cercati dai giornalisti braccati dalla stampa i loro nomi resi pubblici con tutto quello che ne consegue cioè una cosa che davvero aveva poco senso a livello di informazione è stata fatta solo per l'inseguimento di fini ben più gretti per dire ancora oggi a distanza di mesi dal fatto la notizia dell'archiviazione viene data a contoni da tabloid scandalistico veramente in cui non c'è una persona che vive la sua vita intimo o sentimentale che sia con chi gli pare ma c'è un'inchiesta sulla notte a base di sesso e droga con due giovani rumeni insomma il tema è quello ma il tono è un po' diverso e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube come al solito così non ve li perdete o a cercare il canale telegram dedicato alle notifiche lo trovate in descrizione dove peraltro trovate anche un link per comprare i biglietti al podcast che però mentre parlo potrebbero già essere finiti nel senso oggi aprivano a tutti quanti l'ho detto sui social quindi non lo so andate in descrizione se volete comprare i biglietti e buona fortuna era tutto fate i bravi ci vediamo domani grazie